Daniele Romualdi, redazione di Cannalonga per l'Eccilento Channel, qui a Novivelia, presso Centro di Aggregazione Comunale Don Carlo Zennaro, in occasione dell'appuntamento e dell'incontro Focus, la concentrazione per una nuova strategia di sviluppo locale verso il PSR Regione Campania 2014-2020, organizzato dal GAL Regeneration. Sì, in realtà è un incontro cosiddetto di animazione del territorio fatto dal GAL Cilento Regeneration, che già è un'esperienza positiva su tantissimi comuni e con tantissimi soggetti del territorio, che ovviamente lavora per candidarsi nuovamente sui fondi europei, la cui misura sarà aperta da qui a qualche giorno. Quindi si viene a ribadire l'importanza di essere protagonisti sui territori, enti pubblici, privati, soprattutto i giovani, per cogliere tutte le occasioni che il PSR dà all'agricoltura, ma non soltanto, anche a quelle che possono essere attività nelle aree rurali, nelle aree che hanno problemi complessi di sviluppo e nelle aree rurali di colline e di montagne. Ci sono una serie di opportunità, si va a ribadire una politica di utilizzo dei fondi utilmente, che possa creare progresso e sviluppo, che possa creare occupazione. Certo, il modello ideale a raccontare è molto facile, poi le azioni concrete diventano difficili e quindi molte volte tante buone intenzioni si infrangono, i soldi vengono comunque spesi, ma nei territori non cambia molto. Però questo non significa rendersi, essere rassegnati, invece c'è una nuova sfida, una nuova sfida che io credo sia aperta e sia aperto un nuovo capitolo di fiducia, perché oggi al governo della regione c'è Vincenzo De Luca, che rappresenta una certezza rispetto alle cose da fare, con un programma concreto, con una grande attenzione per le aree interne. E poi il Cilento si gioca una grande carta avendo tanta rappresentanza, ma è come questa volta. Siamo qui a Novi Vede, c'è un consigliere regionale, Maria Ricchiuti, c'è il delegato all'agricoltura, abbiamo l'assessore al turismo, un presidente del parco appena nominato, con una comunità molto attenta e con un direttivo fatto da sindaci, da persone per bene. Io credo che se non ce la facciamo questa volta a migliorare le cose, davvero dobbiamo segnare una sconvitta e la gente poi davvero dovrà scuoterci e punirci dal punto di vista elettorale. È la seconda uscita che fa il Cilento Regenerazio per coinvolgere i territori. Sulla programmazione 2014-2020 stiamo in effetti girando i territori, stiamo facendo pubblicità a questa cosa perché ormai è imminente l'uscita dal bando e quindi i cittadini tutti quanti possono utilizzare questi fondi ed è giusto che sappiano come muoversi e dove muoversi. Dottori, le semplici cittadini a chi si può rivolgere? Allora, per essere guidato può rivolgersi tranquillamente a noi, metteremo a disposizione tutte le nostre conoscenze per aiutarlo. Poi per la pratica effettivamente deve rivolgersi a un tecnico perché noi non ne facciamo. Noi siamo semplicemente degli intermediari che cerchiamo di aiutare i cittadini e spiegargli quelle che sono le possibilità, i finanziamenti, le risorse. Poi chi è interessato realmente si deve trovare un tecnico suo e si fa la pratica. Progetti in corso da parte del Gallery Generation? Ma progetti in corso non ne abbiamo più. Abbiamo chiuso la programmazione 2007-2013 il 30 di settembre, l'abbiamo chiusa bene perché abbiamo impegnato tutti quanti gli 8 milioni e 6 che c'erano stati dati di finanziamento. Addirittura, siccome alcuni galle non sono riusciti a impegnarli tutti i fondi, noi avevamo un overbooking di 800 mila euro, la regione ci è girato questo 800 mila euro. È chiaro che se a posto di avere un overbooking di 800 mila euro l'avessimo avuto di 3-4 milioni di euro, avremmo avuto finanziato di 3-4 milioni di euro. Perché? Perché le risorse c'erano. Grazie. Grazie. Grazie.